Protesto sulla questione rifiuti nella città di Battipaglia. Non si plagano le polemiche e le accuse all'amministrazione retta dalla sindaca Cecilia, francese. Come segno di sdegno sono stati affissi sulla porta della Casa Comunale manifesti con una scritta molto eloquente e diretta, Battipaglia, città dell'Ammonnezza. Non solo la Casa Comunale ha visto affissi i manifesti, anche altre zone della città sono state avvolte dalle scritte polemiche. Sulla questione sono state avviate delle verifiche da parte delle forze dell'ordine per cercare di individuare chi abbia compiuto tale gesto. Di certo sono cittadini che vogliono lanciare un messaggio chiaro, ossia che non vogliono l'aumento dei rifiuti e di siti a Battipaglia.